Sarà l'attore venezuelano Edgar Ramirez a sostituire lo scozzese Gerard Butler nel remake di Point Break. Ramirez, 37 anni, interpreterà nella pellicola un guru del surf del film originale del 91, il guru era Patrick Swayze. La regia del film è stata assegnata a Erickson Coeur mentre il primo film originale era stato diretto da Katherine Bigelow. Originariamente Butler, 44 anni, era stato scelto come protagonista, non si conoscono ancora i motivi della sostituzione. Ramirez, per la sua interpretazione di un terrorista venezuelano nella pellicola Carlos, ha ottenuto nel 2011 il premio Cesar come attore rivelazione dell'anno.